Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, apriamo con la cronaca Blitz dei militari della compagnia di Torre del Greco, scoperto una piazza di spaccio a Dercolano, vendevano ascisce e cocaina, arrestati i due responsabili. Restare a casa durante il Natale, l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per arginare la pandemia. Intanto vanno a ruba i biglietti freccia rossa Milano-Napoli. Aumentano i casi di contagio da Covid in campagna a Torre del Greco, ieri registrati 25 nuovi casi di positività. Protocollo d'intesa tra il Comune di Torre del Greco e l'Associazione Nazionale Carabinieri Vesuvio Portici per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio. Infine spazi allo sporto con la Turris che domenica affronterà la capolista Ternanna. Corallini cercano il blitz fuori casa. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Nel corso di questa notte i militari della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne e di un 27enne di Ercolano, resisi responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure restrittive traggono origine ad un'attività investigativa condotta dalla tenenza di Ercolano che, diretta dalla Procura di Napoli, ha permesso di accertare come i due arrestati avessero organizzato una piazza di spaccio insieme ad altri indagati, che riforniva quotidianamente di stupefacenti molti assuntori della zona. Nella circostanza, all'esito di mirati servizi di polizia, i militari della tenenza hanno potuto verificare come gli indagati, per sottrarsi ai controlli dei carabinieri, avessero creato un vero e proprio sistema di videosorveglianza, installando telecamere ad ogni angolo del quartiere, che gli permettesse di osservare i movimenti delle forze dell'ordine o anticipare i loro possibili controlli tra gli stretti vicoli della città. Nel corso dell'operazione in cui sono state perquisite le abitazioni di altri quattro indagati, grazie al supporto del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, sono stati rinvenuti anche 182 grammi di hashish e 38 dosi di cocaina, per un totale di 4,71 grammi, nascosti in alcuni entrati nei pressi di quelle case, dove sono stati inoltre sequestrati anche sei telefoni cellulari in possesso degli indagati. Gli arrestati sono stati condotti al carcere di Napoli Poggio Reale, dove nelle prossime ore saranno interrogati dal giudice del Tribunale di Napoli, a cui dovranno rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Restare a casa durante il Natale È l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per arginare la pandemia. Il direttore dell'organismo Hans Klug ha sottolineato che non vale la pena uscire con il rischio di infettarsi. C'è una differenza tra ciò che è permesso fare e ciò che dovreste fare, ha aggiunto, appellandosi quindi al senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni e alla mobilità adottate dai governi. In Italia sono 17.572 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile. I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati quasi 200.000, in aumento di 35.000 circa rispetto al giorno prima. Il tasso di positività è dell'8,8%, il leggero calo rispetto al 9% di martedì. Intanto esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anti-covid e il numero dei convoi e il 30% di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. La situazione nelle stazioni è comunque estremamente tranquilla al momento, senza file e con poche persone. In stazione centrale a Milano diversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti. Alla stazione centrale sono pochissimi passeggiari presenti che arrivano poco prima della partenza dei loro treni. Si tratta per la maggior parte di persone che tornano a casa. Tornano a crescere i casi di contagio da Covid-19. In campagna, ieri, certificati nuovi 927 casi di contagio su 15.130 tamponi effettuati. A Torre del Greco, 25 positività accertate, di cui 2 in regime ospedaliero e 23 in isolamento domiciliare e 96 nuove guarigioni registrate. Attestato anche il passaggio di 5 soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Sono quindi 309 gli attuali positivi nella città corallina. A Castellammare di Stabbia sono risultati positivi al coronavirus 23 cittadini nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi contagiati, bambini di 5 anni. Si registrano però tra i casi positivi cittadini di età avanzata. In totale, nello Stabbiese, sono stati lavorati 267 tamponi, per cui la percentuale del rapporto tra test lavorati nei laboratori e di nuovi positivi è dell'8,5% circa. Dichiarati guariti anche 12 cittadini di Castellammare. A Torre annunziata paura per il sindaco Vincenzo Ascione. Il primo cittadino, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo al covid-19, ha deciso di sottoporsi precauzionalmente al regime di quarantena presso la propria abitazione, in attesa dell'esito del tampone già effettuato nella giornata di ieri. Sottoscritto un protocollo d'intesa tra il comune di Torre del Greco ed il nucleo di volontariato e di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri Vesuvio Portici, con sede nella città di Portici, in materia di salvaguardia ambientale e di tutela del paesaggio. L'atto avrà la durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2021. La proposta all'amministrazione comunale è stata guidata dal sindaco Giovanni Palomba e dall'assessore al benessere del cittadino Elen Ciavolino. Le finalità del protocollo, quelle di garantire, nell'ambito del territorio cittadino, una serie di attività che si articoleranno in azioni di intervento, rilevamento e segnalazione alle autorità comunali di abbandono incontrollato dei rifiuti in area urbana ed exurbana, rilevazione sul territorio comunale di discariche e scarichi abusivi e rilevazione di atti vandalici e di degrado nei parchi e nelle aree pubbliche cittadine. Eventuali anomalie di particolare gravità che dovessero essere riscontrate dagli operatori del nucleo di volontariato durante l'espletamento delle stesse attività saranno documentate attraverso rilievi fotografici oltre che attraverso apposite relazioni. Abbiamo voluto offrire le parole dell'assessore Lanciavolino un servizio alla collettività tale che possa incidere in modo tangibile sul benessere della vita dei nostri cittadini. Per un intero anno ci avvarremo della collaborazione di diverse unità dell'Associazione Nazionale Carabiniere Vesuvio Portici, che ringrazio per l'iniziativa propostaci, in modo da avere un monitoraggio specifico e costante dell'intero territorio comunale. Turno di campionato difficile per la Turis questa settimana. Il club Corallino affronterà la Ternana prima in classifica del girone C. Con la vittoria di Avellino di domenica scorsa, la squadra Umbra ha raggiunto il record di 11 vittorie consecutive in Serie C. Battendo la Turis a Liberati potrebbero arrivare a 12 vittorie consecutive. Record assoluto per la Serie C. Diversi piani della squadra di mister Fabiano, sorpresa assoluta tra le neopromosse di quest'anno. Dopo il pareggio agguantato contro il Teramo per 1-1, la Turis cerca un risultato positivo per guadagnare altri punti chiave per il discorso salvezza, da sempre obiettivo esplicitamente dichiarato da parte della società. Il match fra Ternana e Turis torna 23 anni dopo l'ultima volta, restituendo ai tifosi di vecchia data il sapore delle antiche sfide sui campi caldi del sud che caratterizzarono gli anni 90. I Corallini hanno 9 punti di vantaggio sulla zona play-out e la partita che è in programma domenica alle ore 15 sarà l'ultima trasferta prima della sosta natalizia. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend. Grazie! Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti! Grazie a tutti.